ciao amici di music off qui alberto orecchia e ivan da roma per vedere in questa terza puntata interessantissime novità che abbiamo sulla nuova console midas heritage d nella sua versione beta ma già funzionante alla grande ci eravamo lasciati con una serie di funzioni che riguardavano il population i tag e quant'altro ma andiamo a vedere come si riesce a definire il layout della superficie perché ci sono un'infinità di possibilità vediamole le possibilità sono tantissime e quello che vediamo adesso è come fare ad avere i canali che ci interessano rapidamente sotto controllo ovvero come o in altre parole come organizzo le diverse sezioni e le diverse aree della console esistono una serie di layout preconfigurati da casa madre quindi midas ci mette già a disposizione una serie di scelte se vogliamo già fatte che prevedono diverse modalità ad esempio una delle modalità si chiama hd24 e unisce in qualche modo le queste tre baglie da otto in una grande area in cui mi ritrovo tutti i canali di input piuttosto che tutte le uscite o tutti i vca se sono un utente pro quindi della serie pro affezionato e voglio ritrovare il layout della serie pro perché mi manca il calore familiare diciamo della pro esatto la familiarità della serie pro c'è un layout specifico si chiama appunto pro serious mode in qualche modo imita il comportamento in particolare del pro 2 in cui qui ho tutti i canali di input qui mi trovo le uscite oppure i vca tra l'altro che in totale sono 24 esistono un'altra serie di modalità come ad esempio questa vca mix mode che utilizza anche gli ultimi quattro fader a scopo di appunto mostrare i vca in queste due baglie chiaramente questi layout che sono quelli proposti da casa madre non sono modificabili ma l'utente può creare il proprio layout tra le altre cose grazie alla connettività ad internet della console ogni volta che l'utente accede con il proprio account o con il proprio profilo alla console automaticamente la superficie assume la forma rispetto a quello che l'utente stesso ha configurato e desidera in questo caso nella finestra navigation andiamo ad impostare tutti questi parametri giusto per fare un esempio molto rapido qui abbiamo un layout creato da noi che si chiama test mode andiamo ad editarlo e vediamo che per ognuna delle diverse aree della console posso andare a definire la funzione per cui sarà area b piuttosto che area a oppure i vca oppure le sole uscite creare dei layer custom quindi un misto di tutto input a vca esattamente come nel caso dei population oltre alle tre baie da 8 e quella da 4 della superficie possiamo andare ad editare la funzione delle due baie di schermo quali sono in questo caso noi abbiamo assegnato ad esempio le uscite a una parte e i contribution ovvero i canali che sono attivi su una particolare uscita nell'area di sinistra quindi ogni volta che premo home il layout della superficie assume la forma che io ho deciso che abbiamo impostato e abbiamo definito quindi in questo caso abbiamo gli input in queste due aree i vca in quest'area qua giù nelle due baie dello schermo abbiamo detto che c'erano le uscite per cui io qua mi ritrovo le aux e qui i contribution ovvero i canali che in questo momento sono attivi sull'aux 1 se seleziono l'aux 1 sulla 5 questo caso nessuno è attivo un esempio possibile ovviamente ogni utente può creare il proprio layout nella forma che desidera in cui si trova più a proprio agio c'è un layout particolare un'area particolare che in questo momento è stata assegnata a questo layout ed è un'area legata al clipping dei canali questo in qualche modo fa sempre parte di quel capitolo che è legato ai tag o se vogliamo i tag automatici di sistema la console cosa fa rileva i canali che in un determinato momento hanno clipato e li tagga come clipped e infatti in merito al clipping nella puntata precedente avevamo intravisto questa finestrella io non ho proferito parola perché ho detto lascio guidare ivan ci siamo arrivati adesso come funziona il tag automatico vediamolo tag funziona così quando un canale per qualche ragione clipa ora noi lo simuliamo esagerando con il gain o con il trim ecco che direttamente in quest'area mi compare un'indicazione del fatto che qualche canale ha subito un clipping semplicemente selezionando quest'area mi riporto nella baia dei canali di clipping quello che ha clipato per cui posso agire immediatamente quindi nel momento in cui non dovessimo aver preconfigurato quella baia per svolgere questo compito in ogni caso nel momento in cui compare un clip solo simuliamo eccolo lì cliccando nella finestra mi si va a evidenziare eventualmente tutti i canali qui abbiamo ovviamente tutti i canali che appunto hanno subito un clip la cosa importante averli subito sotto mano per poter poi agire in qualche modo eventualmente è possibile agire subito direttamente da questo tasto trim meno 05 che permette in qualche modo di abbassare il livello del trim di 05 db e quindi è un intervento rapido magari non è sufficiente non lo è stato per i primi tre tentativi ma in questo caso vedete che ho raggiunto un livello di trim sufficiente a garantire che il canale non sia in clipping direttamente da qui senza magari andare a richiamare per forza il canale e quindi avere sotto occhio altre cose infatti quindi il fatto che il fader facesse su e giù era proprio perché il mezzo db non era sufficiente quindi ricompariva il clip finché non è sparito perché il clip è andato via e questo vale per tutti i canali mano a mano che vengono risolti i clip chiaramente non mi vengono riproposti quindi togliendo mezzo db per volta non è che li tolgo a tutti quelli che sono in clip ma sempre a quelli che hanno bisogno di quella attenuazione altre cose legate alla navigazione e legate ai layout una delle caratteristiche importanti o caratteristiche nuove che abbiamo nella navigazione del layout legata a una funzionalità che quella del pin ovvero la possibilità di bloccare un particolare canale su un punto specifico della superficie mettiamo per ipotesi che vogliamo mantenere il canale 32 bloccato in questa posizione qualsiasi sia il contenuto di questa bancata di fader il mio canale 32 mi rimane sempre visibile e sempre sotto mano se sgancio il pin il canale riprende la sua funzione legata al contesto in cui si trova per cui legata alla specifica bancata di fader che ho davanti ripremo il tasto e ricompare il canale che io desidero avere pronto all'uso qualche funzione particolare o qualche ulteriore evoluzione di questo concetto è il fatto che tramite l'encoder rotativo posso andare a selezionare quale canale avere in pin in questo caso l'ho portato sul canale 7 e un'ulteriore evoluzione è quella di utilizzare la funzione flip target ovvero una volta che ho selezionato il canale da avere in pin tramite l'encoder scelgo l'aux su cui questo fader diventa il contributo di quel canale che significa che sostanzialmente questo è un flip o un sensor fader locale di questo canale l'utilità di questa cosa è ovvio avere ad esempio il canale del cantante sulla spia del cantante piuttosto che una mandata del delay da aprire e chiudere all'occorrenza assolutamente quello magari può essere utile da evidenziare nel momento in cui lo vai a pinnare tra virgolette sul canale stesso della voce del cantante quindi normalmente questa è la mia voce mi serve il suo contributo sul monitor e vado a richiamare il pin il pin si evidenzia con il colore oppure ce lo dice proprio diciamo sul display e questa è veramente una funzione utilissima tra l'altro i pin possono essere diversi chiaramente posso inserire la funzione di pin su qualsiasi canale tra le altre cose esiste una possibilità che è quella di richiamare contemporaneamente tutti i canali ai quali ho applicato un pin dotati di questa funzione di pin per cui in un colpo solo mi compaiono appunto tutti i canali in pin aggancio la funzione e ho di nuovo layer principale come doveva essere in questa zona dove vedo che tu come si dice a roma smanetti noi possiamo chiaramente definire su diverse bancate che cosa mettere a disposizione no quindi population come come gestisco questa questa zona la zona dei controlli assegnabili come vi anticipavo già nel primo video è ovviamente configurabile dall'utente il menu è sempre quello legato alla navigazione quindi da navigation qui ho una serie di possibili set di pulsanti quindi vado ad editarlo ecco che in questo caso posso andare a creare delle pagine nuove eccolo qui e andare ad inserire una serie di pulsanti che assolvono diverse funzioni e quindi comparendo uno slot blank quindi libero possiamo andare a indicare quale 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 funzione richiamare su ciascuna delle 12 a disposizione su questa pagina specifica come per esempio control groups come ad esempio tutti i control group il che significa posso assegnare direttamente il population 1 piuttosto che un gruppo di talk gruppo 5 oppure direttamente delle uscite di master out questo è utilissimo quando lavorando in flip ho bisogno di accedere direttamente alla selezione dell'aux e portarmi davanti il flip send on fader o di quei canali all'aux che ho selezionato l'abbiamo intravisto diverse volte ci siamo passati sopra con le dita abbiamo fatto finta di niente ma c'è quella tazza di caffè o comunque quello che che vuole essere che ha questo nome mancino ora prima che parti a palla di fuoco come si dice quando oggi hai parlato di questa diciamo finestra mancino io ho pensato subito vedi che carini hanno pensato a qualcuno mancino e invece manco per niente ebbene no mi dispiace il nome in realtà è un gioco deriva da una particolare tipologia di caffè che i ricercatori e che gli sviluppatori del software usano bere a mancino sta per mancino cappuccino su cui però sorvolerei totalmente no ecco perché fossimo stati svedesi magari ci poteva anche incuriosire questa cosa ma siamo italiani quindi sul caffè non scherziamo vediamo nella realtà che cos'è perché è uno strumento potentissimo è uno strumento potentissimo ed è una delle grandi novità sostanzialmente se lavoriamo in una modalità solo significa che io vado a selezionare ad esempio un possibile canale di input o un aux e in quest'area ho il controllo di tutti i parametri associati a quel canale che io ho selezionato potrebbe essere ad esempio il controllo dell'equalizzatore piuttosto che del compressore del gate la possibilità di assegnare i nomi di gestire la mandata di quel canale a una particolare uscita piuttosto che andare a verificare lo stato della parte di chiamiamola di preamplificazione o di pre per cui il gain il trim passa alto passa basso il pump pot il fader e fin qui è quello che io potrei fare sull'esploso del canale tranquillamente quindi non devo necessariamente arrivare qui ma ma la cosa interessante è quando invece si passa in modalità multi select ovvero posso selezionare più canali e operare contemporaneamente su tutti quanti i canali selezionati per cui applicare ad esempio in questo caso una variazione dell'equalizzazione su tutti i canali questa variazione può essere come avete visto in una forma absolute ovvero quando faccio la variazione tutti quanti i canali assumono lo stesso valore oppure può essere di tipo relative ad esempio spostiamone qualcuno quando sono in relative quello che succede è che viene preservato il rapporto tra i vari canali per cui semplicemente viene applicato un incremento una riduzione di un certo quantitativo di db partendo dalla situazione in cui ciascun canale si trova e qui ancora sento l'eco degli uuuuh di stamattina effettivamente ma questo è niente in realtà no? perché cioè è una funzione sì utile ma possiamo fare di meglio possiamo fare di meglio gestendo ad esempio contemporaneamente la soglia dei gate quindi posso andare ad agire contemporaneamente su tutti i gate ad esempio della batteria se il pezzo in questione prevede che il batterista utilizzi le spazzole e ho bisogno di ridurre la soglia perché altrimenti sarebbe troppo alta posso selezionare tutti i canali gestire la soglia e poi riportarmi al valore originale ma non siamo ancora al massimo dell'entusiasmo andiamo a manetta adesso che arriva quando invece andiamo a selezionare sense il che significa che io posso aprire contemporaneamente su una mandata tutti i canali che ho selezionato sia in forma absolute che in forma relative ovvero creo il mio mix per ciascuna delle aux perché ogni musicista vuole il suo mix specifico di quei canali che ho selezionato e tramite appunto la funzione relative selezionando tutti i canali io sto variando il valore del send di quei canali su quell'aux possiamo fare ancora di meglio se vuoi facciamolo e facciamolo selezionando più aux contemporaneamente per cui su più canali per cui n canali su m aux in questo modo vado ad alzare il livello di quel mix e del mix specifico di ognuna delle aux relativamente su tutti quei canali non solo ma in fase questo diciamo a livello operativo quindi online tra virgolette ma in fase di preparazione di programmazione chiaramente questo mi permette di risparmiare un sacco di tempo capite che quando tu mi insegni da fonico io ti insegno relativamente da fonico esperto in particolare legato al mondo del monitoring del pile co questo tipo di funzione è estremamente importante soprattutto durante la fase di setup perché in questo caso io posso ad esempio andare a selezionare tutti i canali decidere che su un certo numero di aux siano tutti pre fader o tutti post fader eventualmente andare a aumentare il livello e quindi fare una preconfigurazione della console in pochissimo tempo certo in due secondi io praticamente ho aperto a un certo livello meno 10 tutte le mandate i fader anche li metto tutti a zero se lavoro in post come diciamo stamattina metto via la cantinella la classica richiesta di abbassare tutti i violini è certo questa cosa chiaramente anche la possiamo fare a livello di la selezione infatti potrebbe essere noioso dover ripetere tante volte la stessa selezione per cui ci vengono in aiuto i population group e i VCA perché in questo caso semplicemente selezionando i VCA questo porta con sé anche la selezione per cui ho già la selezione fatta un'area importante durante la fase di setup della console è l'area legata al line check vediamo un esempio quando qui non ho selezionato niente la console mi consente di fare una sorta di richiesta cioè selezionando il parametro posso capire ad esempio quale canale ha la fase invertita posso capire quale canale ha il passato attivo posso capire quale è assegnato allo stereo il passaggio successivo è che in questo caso io posso direttamente da qui andare a rimuovere e modificare l'assegnazione allo stereo e quindi rientriamo sempre sia nella questione di preparazione della console sia nella questione di risoluzione di eventuali problemi la 48 e quel mondo lì perché qui comunque in un solo colpo abbiamo a disposizione tutti e 144 i canali quindi è una vista totale tutte le uscite tutte le matrici e quant'altro quindi insomma questo mancino devo dire stamattina mi ha fatto venire l'acquolina in bocca perché ho visto proprio minuti di tempo non voglio dire ore ma insomma diverso tempo risparmiato che potremmo spendere tranquillamente dietro il bancone di un bar o in gelateria altra questione altamente succulenta è quella dello shout mixer qui strizziamo l'occhio a tutte quelle situazioni dove le comunicazioni hanno una certa importanza e normalmente ci obbligano a inventarci giri strani arzigocolati vediamo invece qui come è molto semplice risolvere la questione esattamente è sempre più comune l'utilizzo della console come strumento per andare in qualche modo a mixare a miscelare le varie comunicazioni che provengono dal fonico di palco piuttosto che dal fonico di sala dal regista dal backliner queste sono tutte figure che in qualche modo devono comunicare tra di loro l'utilizzo o il modo classico per gestire e risolvere questo tipo di problema era occupare alcuni canali di ingresso del mixer e utilizzare alcune matrici appunto per andare a mixare tutti questi contributi questa cosa non serve più perché con HeritageD abbiamo la possibilità di utilizzare uno shout mixer ovvero un mixer 16 in 12 out che viene utilizzato allo solo scopo delle comunicazioni non va ad impegnare input della console e non va ad impegnare matrici qua ad esempio diciamo che sull'input 6 gestito ovviamente dalla patch ho il regista che deve parlare con n destinatari che può essere il fonico di sale il fonico di palco un backliner un cameraman semplicemente tramite questo tasto unity ho portato a 0 dB il fader di quel cross point e in un attimo ho distribuito tutto il segnale che arriva da quella postazione la cosa importante è che posso creare dei preset in questo modo posso gestirmi diversi scenari ad esempio sono in una fase di sound check una fase di prova magari aumento il numero di cross point aperti nel senso che le comunicazioni saranno maggiori tra tutti gli operatori nella fase dello show andrò a ridurre perché chiudo alcuni canali di comunicazione e limito le comunicazioni allo stretto necessario e tutto questo in maniera indipendente da quelle che sono le attività normali della console che in qualche modo comunque ci mette anche un po' al sicuro da eventuali disattenzioni o quant'altro esatto ci permette di concentrare la nostra attenzione quando lavoriamo sui fader sui canali e su quello che dobbiamo realizzare e quando invece parliamo di comunicazioni abbiamo un'area completamente separata in cui il focus in quel caso è legato alla sola parte di appunto trasmissione delle informazioni tra gli operatori benissimo andiamo a concludere con un aspetto che abbiamo volutamente tenuto in coda perché nelle varie preview che abbiamo visto su facebook sul sito Midas ufficiali non ufficiali c'era questa doppia lettera AI intelligenza artificiale ora svegliamo un po' che cosa c'è dietro allo stato attuale ricordiamolo in questa versione beta del firmware si infatti abbiamo un po' visto nei vari video di presentazioni preliminari l'esistenza di questa intelligenza artificiale che effettivamente è una grossa novità nell'ambito delle console audio ed effettivamente questo tipo di funzionalità che è stato sviluppato tra l'altro da alcuni nostri connazionali che lavorano nel team di sviluppo di Midas ci permette in qualche modo di fare una serie di operazioni come ad esempio la profilazione del canale che significa che la console registra circa 5 secondi dell'audio che transita all'interno del canale lo rileva e lo analizza dopo l'analisi ci vengono proposti una serie di se vogliamo preset di equalizzazione di compressione o di gate chiaramente se necessario fate ad esempio in questo caso la console ha riconosciuto che su quel canale c'è la cassa della batteria e ci risponde con kick la prima operazione semplice che possiamo fare è autoname e assegnare il nome ed eventualmente abbiamo una serie di preset possibili che possiamo richiamare per EQ piuttosto che per il gate piuttosto che per la compressione ora questi preset non sono dei preset come il classico preset o la classica libreria standard e fissa ma vengono calcolati sulla base del segnale che effettivamente la console ha in quel momento ascoltato capite già che ad esempio solo il fatto di poter assegnare velocemente i nomi sulla base del segnale che c'è dentro un canale è già un grandissimo risparmio di tempo dobbiamo essere un po' delicati in questo momento perché sappiamo bene che i tecnici e i fonici in generale siano abbastanza permalosi rispetto a loro abbiamo visto stamattina nelle reazioni diciamo a questa chicca se vogliamo però poi effettivamente tu hai proposto ipotizzato alcuni sviluppi ma in generale senza poi necessariamente fare riferimento alla consola che effettivamente invece possono essere interessanti mi viene in mente l'esempio del delay esatto questa parte di intelligenza artificiale è ovviamente in una fase se vogliamo iniziale o embrionale sono le prime idee i primi sviluppi da qui quello che ci ferma è solo la fantasia nel senso che poi da qui in avanti ognuno può sviluppare le idee aumentare le funzionalità e la qualità dell'esperienza che l'utente fa di questo tipo di funzione idee di futuri sviluppi potrebbero essere ad esempio includere l'intelligenza artificiale nella pagina di Mancino quindi fare un profilo di n canali in un colpo solo quindi contemporaneamente in quel caso si possono sfruttare quindi la conoscenza di due canali adiacenti e avere le informazioni di due canali appunto come suggerivi tu per cercare il delay tra un canale e l'altro un allineamento del delay piuttosto che collegare il tap tempo a un canale quindi fare in modo che la console rilevi il tap tempo dal canale del rullante ad esempio tutte queste funzionalità dipendono in qualche modo vengono gestite tramite questi algoritmi che sono appunto in fase di sviluppo e questa è la prima volta che vengono introdotti per cui siamo assolutamente anche eccitati all'idea di poter contribuire a una novità così importante certo chissà dove ci porterà questo tipo di novità a questo tipo di tecnologia perché dietro comunque c'è una potenza di DSP non l'abbiamo detto che lavora su che standard su uno standard di 64 bit ora che siamo legati alla questione dell'intelligenza artificiale c'è da sottolineare il fatto che il DSP che viene utilizzato per fare questo tipo di calcoli è un DSP completamente separato per cui le aree diciamo della console sono tre quella della gestione dello schermo della grafica il DSP audio in motore vero e proprio separatamente e alcuni processori grafici quindi particolarmente potenti che vengono utilizzati solo a fine di analisi dei segnali audio all'interno della console benissimo allora io direi che considerata l'intelligenza sta avvenendo meno rimasta solo con l'artificiale dell'heritage D per cui non mi resta che salutare tutti quanti e quindi da Alberto e Ivan per oggi è tutto un saluto ciao ciao